Eccoci con il presidente dei Lions Club Termoli Host, Mimmo Fabiano, che oggi è qui in rappresentanza con i suoi collaboratori e con i suoi membri soci dell'Alliance per questa bellissima iniziativa, perché davvero il pianeta Terra in questo momento ha bisogno di essere, non dico proprio toccato amorevolmente, ma almeno salvaguardato in qualche senso, no vero Mimmo? Sì, i Lions Club Termoli Host in questo esercizio sociale hanno trattato tantissimi temi, dalla cultura alla valorizzazione del patrimonio artistico di Termoli, al femminicidio, violenza di genere, alla educazione civica, una parte già anche dell'ambiente e oggi, quest'oggi, ritorneremo a trattare l'ambiente perché ritenuto strategico dal nostro governatore e da noi sposato appieno, ma anche perché è divenuta un'emergenza del pianeta. Quest'oggi piantumeremo una cinquantina di alberi autoctoni e il nostro obiettivo è quello di far diventare, di avere un ambiente più verde e pulito. Abbiamo denominato questo service dieci motivi per piantare un albero, che non vuole essere uno slogan. La piantumazione di alberi autoctoni forniti dal vivaio forestale regionale di Petacciato, pianteremo su area di proprietà del comune di San Giacomo e per questo colgo l'occasione per ringraziare il sindaco senatore della Porta che ha subito accettato il nostro invito e per l'ospitalità che è inteso concederci. Dopo la piantumazione provvederemo a fornire una brevissima lezione sull'importanza, sulla preziosa funzione e sull'utilità che l'albero dà all'ambiente sistema e all'uomo. Questo service è rivolto ai più piccoli nella convinzione che la sensibilizzazione possa agire sulle coscienze di questi piccoli anche perché loro sono il futuro. Abbiamo inoltre inteso produrre un piccolo documento contenente i dieci motivi per piantare un albero, documento che daremo alle famiglie di questi bimbi appunto perché siamo dell'avviso che la sensibilizzazione non può che passare anche attraverso i genitori.